Io sono Manu Balasso e mi occupo dello sviluppo commerciale di Scaligera Service di noleggio autogru e piattaforme e mezzi per il lavoro. Soprattutto la consapevolezza che il processo che c'è dietro al marketing è la cosa da progettare per poi unirla con questi strumenti, però serve un buon processo, serve progettare un buon processo di marketing. Sicuramente il fatto che le perdite di tempo che abbiamo vanno viste e prese in mano subito per poter agire e fare più semplicemente e magari con degli strumenti che mettono in rete le informazioni aziendali, anche le informazioni interne, quindi quello possiamo fare assolutamente. Di venire assolutamente perché la formazione innanzitutto credo che sia uno specchio di come una persona può sviluppare il proprio business sempre. Questo formato di due ore è molto interessante perché è molto collaborativo, molto di confronto ed è leggero perché ci permette comunque di confrontarci sulla parte pratica di tutti i giorni.